Ciao! Questo è un video sui miei costumi della Calcedonia. Dato che quest'estate ne ho acquistati tanti nuovi, ve li volevo mostrare. E allora, il primo è questo, con questo bellissimo reggiseno, con le perline, arancione, un po' viola, con dei toni del verde, tutte queste perline bellissime. Ha questo cordoncino, che lo tiene su, e volendo si può anche togliere, perché qui si toglie, e si può usare solo a fascia. È leggermente imbottito, non tantissimo, e questo è il sotto. A me piace molto, è veramente caldo come colori, è fantastico, mi ci sto trovando benissimo, e l'ho spianata ad andare a formentera. Poi, un altro bellissimo, è questo qui a fascia, tutto paiettato, brillante, con questa mutandina sotto. Se è una fascia normale, non è imbottita, però è veramente strallucicosa, a me piace da morire. Poi, quest'anno, insomma, mi sono, diciamo, soffermata sulle fasce, perché mi piacciono veramente tanto, come vestono. E ecco qui, quest'altro qui, una tonalità di verde, è double fuzz, perché da una parte è verde così, e dall'altra è marrone. È una fascia un po' imbottita, e anche questo, volendo, ha il cordoncino, che dovrei avere da qualche parte, se non sbaglio. Ah sì, eccolo, che è questo qui, con questo bellissimo, queste bellissime perle, che si attacca, e poi c'è il cordoncino marrone. Questo veramente bellissimo, per i miei gusti, dato che mi piace il verde. Poi, un altro, questo però è quello normale, ha le mutandine così, tutte colorate, fucsia, lilla, blu e giallo, si lega anche i fiocchettini. E poi, il reggiseno, invece, è fatto così, con questa... Ops, è un po' straprillato. Vediamo se riesco a metterla a posto. Forse. Vediamo. Praticamente, scusate un attimo, ma ho solo una mano, non riesco a tenere il telefono. Vabbè, vi faccio vedere un po' così. Questa è l'anella centrale, rosa, un po' glitterata, e questo è il reggiseno, sempre con le tonalità molto estive. Mutandina. Dietro è sempre così, con fiori. Poi, un'altra fascia, che è sempre uguale a quello di prima, che avete visto in verde, però l'ho preso anche in lilla, e dietro, se lo girate, diventa viola. Però io lo uso con la tonalità del lilla, che mi piace veramente tanto. Eccolo qui, sempre con questa bellissima fascetta. E poi, ne ho acquistato uno fucsia, che ha sempre un'utandina, normale, così. Il reggiseno è a fascia, ma è bello perché ha questo incrocio di fili, qua, è un po' imbottito, così. E poi si lega sopra, così. È veramente bello perché è un fucsia, un po'... Non è proprio fucsia tutto uguale, ha dei punti che sembra un po' più chiaro, e dei punti un po' più scuro. Non so se si riesce a notare molto, però sembra quasi smacchiato in qualche punto. Mi piace molto il reggiseno con questo incrocio, bellissimo. Qui sopra ha queste campanelline. Poi, un altro, questo è rosa, con queste mutande tutte... Tutte sembrano stropicciate, ma sono fatte così. Un po' stropiccine. E il reggiseno, veramente sottile. Così. Eccolo. È proprio... Con... Sopra hai i lacettini. E si allaccia anche dietro. Questo, diciamo, è uno di quelli che mi piace, però non particolarmente, perché, boh... È sempre tutto stropicciato, come è fatto, non lo so. Poi, un altro, invece, che ho acquistato è in grigio. Questo, che ha questo reggiseno, così, da dritta di qua. Col pizzo. Ha questo pizzo fantastico floreale, sotto in grigio. Questo non è imbottito, è normale. E sempre le mutandine sotto, con i nastrini che si legano qui, laterali, e con questo pizzo, sempre. È veramente, veramente fine. A me piace tantissimo questo pizzo. E con l'abbronzatura, insomma, sta molto bene, perché è bianco. E mi piace, mi piace. E per finire, ne ho uno nero. Che è molto, molto bello. Che ha, lateralmente, queste... Scusate, che le metto a posto, vi faccio vedere. Allora, così va girato. Ecco, lateralmente ha queste incastonature brillanti, di metallo, veramente fini. Danno luce. Se di qua, che di qua. E il reggiseno è veramente particolare. Ora vediamo se riesco a mostrarvelo come si deve. Praticamente, ha la chiusura davanti, non di dietro. Perché? Perché dietro, sempre questa incastonatura fantastica nella schiena. E, quindi, c'è questo incrocio dietro, e davanti si chiude, così. Il reggiseno si incastra con questi due pezzettini, e si unisce. Non rende molto vederlo così, ma vi assicuro che è un costume meraviglioso. Perché proprio questa incastonatura nella schiena è veramente fantastica. E mi è piaciuto molto. Quando l'ho visto, l'ho preso subito perché non ne potevo fare a meno. E questi sono tutti i miei costumi di calzedonia. Ne ho tanti, di vari colori. E se qualcuno vuole commentare il video qui sotto, molto volentieri. E niente, vi saluto e vi mando un bacione. Ciao!